Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Neone e siamo qui oggi con il mio ospite speciale Ryukudan che si è offeso la prima volta che non è stato speciale, però era una registrazione tagliata, quindi non dovrebbe importarvi a nulla a voi Esatto, questa volta ti perdono, perché questo è un video molto soft È soft? Senti un po' di soft porno, stessa cosa Iniziamo bene Però, allora, dovremmo essere fieri, perché siamo riusciti a far ricredire una persona sul gioco, che ci ha seguito la serie, una persona Cioè ci sono 50 persone che ci ascoltano dire ste cazzate, tu ci pensi mai? Wow, non ce l'avevo mai pensato Cioè non sono tante, tu dirai, però ci sono 50 persone che ci ascoltano dire cazzate E perché c'è la gente che è così Perché la gente che è... Bravi Bravi, così Soprattutto quello che ha cambiato dire idea per riguardare il gioco Sì Ti voglio bene, sei bravo, sei una brava We love you so much Un macini, you understand? Sì, ok Passo il turno Che devo passare il turno, credo, non lo so Cazzate in realtà, se vogliamo essere precisi, però va bene Monaco, che vuoi? Ecco Tu non hai potuto vedere Però quando io ho fatto Monaco, che vuoi? Ti vedi il mio generale che sta nella spada e lo uccide Via al Monaco Se cazzo vuoi Che cosa sta succedendo qua? Ehi Accettato una battaglia? Sì Sì Vai, non ce hanno più esercito di te, credo Ah no A parte che non ce la farò mai So Ah E di chi sono questi? Aspetti Ah, ci sono Cabe Adesso gli mando navi che c'ho dall'altra parte Ho lasciato quella nave lì E poi se ne vai? Mi dice tratta di pace Ma se non vai a me Ma vabbè mori ammazzato così Ok dai, fai il tuo turno Ah, perché? Allora, qua mi stanno arrivando 50 eserciti Tutta addosso Solo? Devo ragionare un attimo Minione Ricordati che devi conquistare Cioè devi eliminare questi Ciosokabe Sì, 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 sì Non ti preoccupare Adesso devo andare a cercare quegli infami Perché sei visto dove sono andati? Quali? Ah, non siete dove ne? Sì, sono Ah, no, non le ho viste io purtroppo Non ho Non ho tante navi in giro Mettila così Eccole qua Perfetto Allora Ah, scappi Scappi No, non scappi Non scappi Toh Vai a mori ammazzato Tanto lo inseguo Non me ne frega Ah, puoi sabotare quell'esercito di Ciosokabe? Quale? Quello vicino al tuo nina Quelli Ah, certo Perché tu c'hai nina di livello alto Sì, abbastanza Io non ce l'ho così alto nina Allora Io c'ho un mini nina 82% di possibilità Ho fatto all'istante Ah, ok Da serie 82% di possibilità Cosa? Ok Adesso vado e ammazzo sto esercito Perché veramente non ce la faccio più Oh Ai oddio santo Guarda Prima guarda il loro esercito Mi fa tristezza Vai Sono tre eserciti contro il mio È stato È stato bello Addio Damio dei Ciosokabe Addio È stato bellissimo Perché sono caduti tutti e tre in terra Sì Tipo Ta 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 Birillo Perché ho fatto ta 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 però Cazzo È stato bello Ta 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 Sì Gli ho sparati Non mi ricordo cosa dovevo fare Non lo so neanche io Devo aspettare Per attaccare l'esercito dei Ciosokabe Ma che tanto C'è l'esercito La flotta dei Ciosokabe Quindi Mi tocca aspettare Eeeh Ah sì Devo controllare nell'isola principale Se c'è qualcuno che mi sta infastidendo Pirati magari No ma non penso Infatti non c'è nessuno Posso o no Yeeeh Ok sabotaggio Muratura in pietra Chi se ne frega Mora con nemico giustiziato Fotiti Scontento in crescita Izumo Perché Izumo c'è scontento in crescita Per religione diversa Così Casuale Va bene Ti consiglio di piazzargli un po' di esercito No ci metto Degli Hashigaru con Yari Quindi va bene Va bene Salva Perché io dopo l'ultima esplosione Salverò sempre E conquistiamo Edo Automatica Perché tanto sai com'è Uno gli assedi non ce li fa vedere purtroppo Due non li so giocare Poi andiamo a Sagami Automatica Sagami mia Occupazione pacifica anche qua Molti potrebbero dire pacifico questo In quale il mondo universo se vivi Però va bene Perché stai andando a fare la spesa Stai prendendo uno così Tanto Oh voi che palle che siete Oh uccidiamo questo esercito che mi ha rotto le palle Vai Ok E' 18 Perfetto Ora posso muovermi Ci metterò un pochettino Un paio di turni Ad arrivare a A Kazusa Un paio di turni a Kazusa E poi ho conquistato questa zona E gli ho già fatto un errore a sfidarmi Mi sa E' già Iga Omi Lascio scegliere a te Non ho capito Iga Omi Iga Ok Iga Ti ispirava Sì Omi Dovrebbe esserci un Tempio C'è un tempo Cosa di Sì però Non gli sto sfruttando Sai com'è Sto andando di ignoranza Occupazione pacifica Generalmente di grado Adesso io rimango A Iga No anzi Devo andare verso Ise Quindi La lascio un po' sguarnita Sti cazzi se me la riprendono Sinceramente E poi la riparo Mi prendo Ise E poi andiamo su Omi A rompere le palle Guarda quanto sono Più bellini adesso Gli ho già nella mappa Secondo me Hanno più stile Così piccoli Wow Andiamo a prenderci anche Awa Automatica Ah c'è so Cabe Eravate un bello alleato Mi spiace Però c'è ancora Uagi Eh sì lo so che c'è ancora Uagi Vabbè io ci mando prima un bel Nia Ma ci può passare da lì? Uh 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 Lo sai perché non posso passare adesso? Perché ci sono gli Ojo Si stanno alleando? Si ci sono gli Ojo Si però sto muovendo la mia flotta Cioè capisci? Si dovrebbero Si e ho catturato altre tre navi Va bene Va bene Va bene Va bene al limite Mando il mio ninja Saboto un po' di roba Sabota 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 Mamma mia che complessi di vita Mi piace vediamo una cutscene Stiamo guardando una scena tagliata Una cutscene Un ninja si è sparato adesso Si si è suicidato Perché No ce l'ha fatta Però Arrivato un tuono Si E' anche abbastanza Troppo Eeeh Va bene ok ho fatto il mio tuono Ho 6.000 Come li spendo Aspetta Perché Io quanto cibo ho Ho 26 previsto Vabbè facciamo un'altra Allora Te diventi una fortezza Così a chi Tu diventi una fortezza Ho altri 3.000 da spendere Però giusto Porto commerciale Vai ho bisogno di soldi Fine turno Di un po' ma Vicino Nella costa di Tosa Ci sono ancora eserciti o No Vicino alla costa di Tosa Boh Io vedo soltanto delle navi Che si stanno avvicinando al nord A rompere le palle Si mi hanno attaccato io oggi Però a me non me ne può fregare di meno oramai Ci ha detto tranquillamente Si automatico Perché anche se me le conquistano Cioè Le eliminerò Quando distruggo gli ojo L'ho catturata una No L'ho persa una E me l'hanno catturata una Però non me ne frega molto Cioè sinceramente Trattato di pace No Chi? E ci sono cabe con me E io ho fatto E io ho fatto tipo Gesto dell'ombrello Cioè il mio diplomatico fa Gesto dell'ombrello Cioè una crisi alimentare E ai zen Così? Perché si hanno fame Andate da mangiare ai zen Aspetta Vabbè non Il ninja è stata vista Ah giusto Devo sistemare l'economia Minchia quante zone nere che possiedo Quante zone nere? Sì perché sono tutta roba che non pagano le tasse sai Quindi per quello Ah ok La crisi alimentare Ah sono a meno uno Oddio Santo Quanto dura sto coso Due stagioni rimanenti Spero che Non impazzisca la gente Perché io veramente non ce la faccio L'ha detto in un modo divertente Però lo sai Sono a meno uno Io ho 25 di cibo Mamma mia Quanto cibo però Allora Sono a meno uno 20 di cibo Gilda eh Non gilda Gilda È una gilda di mercanti Ma non so cosa fare Cosa costruisco Cosa mi consigli di costruire Cosa vuoi costruire di bello Dipende da te Non so come Dipende da te Io non so come è fatto il tuo stato Tempio buddista Così Budismo Così Viva il buddismo Hashtag Lisa Simpson Adesso puoi guardare Nella costa Se c'è altra gente Oppure Non vedo Cioè purtroppo Non li vedo Se ti fai la costa Mi Se ti fai la costa Gli uccidi Però Quindi non ti preoccupare Perché erano tutte pippe Ok dai Intanto è la via più breve Quindi Allora qua c'è un esercito Di Chuzokabe Ma è composto da tipo Tre persone Ah io non lo vedo Quindi Fai te Non ti preoccupare Potrei Potrei fare Architettura Epica Dopo questi Dopo eroi Con Con Katana Beh si Salve di Madoro Sono scappate le navi Dei Chuzokabe Infami Schifoso Aspetta che appena conquisto Awaji Affonda Affondano C'è un altro ninja Dei Chuzokabe poi Sì ne hanno molte Sono rompi palle Eccolo qua Volevi Ma porca mia Ma porco di quel ninja E E E Qua Però tanto non riuscirò mai a combattere Quindi Tanto vale che Faccio approdare Però non posso farla approdare Volevi Ma non posso farla approdare Va bene E Poi Poi Plotta nemica Ritirata Va bene Non posso fare nient'altro Quindi Eh no Aspetta ho 12 mila di monete Magari potenzio qualcosa Se me lo permetti Te lo permetto No Commerciale Non lo voglio Quindi faccio un porto militare Doge di nono dachi Stalle Doge del maestro di wajutsu Lo faccio? Sì lo faccio È facile Sì Ormai Poi Qua Cosa faccio? Castello? No Non lo voglio fare Potenzio qui E potenzio alle strade Bravo E posso anche passare il punto Ok Blocco navale al porto Wow Tentativo di sabotaggio Wow Commercio una ban Nope Non lo voglio Mi dispiace Di passare più tardi Grazie Che ne so Fra 200 anni circa 200 anni Vabbè E quanto A quanto siamo? Ehm Di tempo? Di tempore 14 minuti Vì c'è tempo per conquistare tutto il Giappone Due volte Non posso continuare l'esercito Perché ho pochi soldi Non pensavo che sarebbe arrivato un giorno In cui l'avrei detto Quanti sarebbero i pochi soldi? Eh Faccio soltanto 7000 a turno Eh 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 perché 5.000 Cosa? Vabbè Hai diminuito il denaro a 5.000 Devo Devo fare in modo Di eliminare un pochettino Di cose Che stavo facendo prima Mi vede qua Reclutamento Ah ok Qua l'ho già finito Reclutamento Perché mi ero fatto un po' di blocchi navali Appena sistemo quella situazione I blocchi navali Fidati che la mia economia ritorna alta Ah intanto conquistiamo Ehm Ise E Awagi Ok E' vero c'era un blocco navale Mi ricordo Salvataggio rapido Automatica Ok ciao Ise Sei di nuovo mia? L'Ise è di nuovo mia Ok sta ufficialmente diludiando Sì Lo sento Le mie orecchie di iPhone Mi permettono di sentirlo Andiamo ad ogni? Sì andiamo ad ogni Scusami Non ogni Ogni è un'altra cosa Vabbè Ashta Vabbè Devo mettermi un po' a fare riparazioni sparse poi Ah non posso andarci in questo turno? Che palle Vabbè Tanto te mi fai così E poi Prossimo Fra qualche turno Sistemo qua Ok non mi ricordo più dove stavo costruendo roba Quindi non posso farci tanto Andiamo ad Awa Dai nel frattempo Tosa Ti levo le tasse Va bene Tosa Grazie Tosa Ti potrei spendere qua Tutte le forze stanzionate non sono utili così posso rimettere le tasse a Tosa Tipo credo sì Perfetto Alto da fare Qua posso conquistare Izu Izu E poi E poi Ah no ci sono Mi sto lasciando un esercito dietro mi romperà le palle esercito oppure che ne so ti uccido il prossimo turno Vabbè vedremo Passo il turno perché intanto non mi ricordo se devo fare altro quindi sì Ah Giorgio fate bene la vostra mossa e fatela veloce perché non ne ho voglia dai Che un tempo eravate Che non ne ho voglia è bellissimo Ok grazie Wow Automatica Sì Eh beh Vabbè ed ho perso la nave però ok Mi stanno diminuendo drasticamente i soldi e non capisco per quale motivo Anche a me però C'è qualche blocco militare Militare Navale? Sì navale proprio Sì sì stanno dando fastidio a me quindi per questo ti sono diminuiti i soldi Allora devo potenziare dei mezzucche Sì esatto E gli metto gli metto Qua Così Ok Così Poi un altro mezzucche devo potenziare Se lo trovo Eccolo qui E gli metto Contro spionaggio Magistrato A posto E poi Non mi ricordo cosa dovevo fare Eh Vabbè me ne torno Ah qua c'è un esercito tuo vabbè ma tanto non C'è dei chiosokabe ma tanto ormai Ucciditi Perché muoiano a breve No no gli eserciti rimangono Gli eserciti rimangono quindi devo uccidere Eh sì Oh vabbè sono solo in trenta per dirti quindi Sono trenta samurai quindi Non mi infelisco neanche per adesso però va bene Mando il mio esercito avanti lungo la costa ma non c'è nulla Lo mando e amando E poi Boh Passo il turno Ok Grazie Hashtag grazie Vediamo se no C'è qualcosa Prego Devo un po' Niente da fare Vediamo se devo fare riparazioni a proposito Giusto Grande risultato Legge d'aria a scuola di bajutsu Aiuate Sabotaggio militare Incursione nemica Incursione di saluta commerciale Sì non ci posso fare nulla Le navi affondano invece Ok Allora andiamoci a prendere Awaji Prima devo eliminare questo esercito qui C'è è tipo il daimio loro Da solo Sì così Ma immagina ti lascia la epica Sulla costa ti vedi le navi arrivare il daimio che dice Siamo fottuti Perché Non vivremo a lungo Perché Non può dire altro in questo momento Un daimio ora come ora Però ne ho uccisi due Ne ho uccisi due Sì beh era un daimio C'è l'altro daimio ora Ancora Ucciso un daimio se ne fa un altro E ora è ucciso calve Sono andati via dalla mappa Finalmente Il generale aumenta di grado Ehm Il clan maggiore è distrutto Non faccio rivedere la scena Perché la faremo rivedere con gli ojo Che anche loro fra poco Finiranno male Ah mi sa che se sono andati via Ehm Gli altri così E ci oso cave Va bene Interessante Quanto stiamo registrando? Giusto per sapere 20 minuti Sì sì Abbiamo 10 minuti della vita ancora Perfetto Ehm Suruga Ciao Ah che bello Uh un po' di resistenza Hanno anche degli arce Dei monaci guerrieri con arco Interessante Buona morte Battaglia automatica Buona morte Eh beh Io ogni volta che ho giocato con gli ojo Sì Che avevo scelto gli ojo come personaggio Mi sono sempre trovato male Perché ero tutto circondato Sì loro invece hanno fatto una bella cosa Si sono agliati con Non mi ricordo più il nome Perché mi hanno eliminato un po' di tempo fa Ti ricordi quelli rossi? Gli shioni? Gli shioni sì Non è più bello il Giappone Sì esatto Ho sempre voluto dirlo Ho sempre voluto L'hai sempre desiderato Cina no sud C'è qualcuno a rompere le palle Beh Tra poco lo scopriamo Io direi che devo potenziare un pochettino Il lato Non militare Perché quello già È grande È già grande Ma il lato commerciale Nel mio popolo Perché sta un po' perdendo Altro affare qui No Posso costruire Ancora una taverna Perfetto Ah si devo mandare E questi qua Ah prima Dai potrei conquistarmi Owari In questo turno E poi andare E tornare indietro Per Omi dopo Ok salve Automatica intanto Ah quanto sono più belli i confini adesso Stai diventando un totano il Giappone Perché è un totano? Non lo so Mi ricorda un totano Va bene Ah posso prendermi anche Mino In questo turno? Ah si va bene Ciao Mino Ok L'occupazione Stai rompendo dei rametti Invece di ammazzare gente Cosa te lo fa pensare? No Chissà Chissà Boh Stupide idee che ti salgono in mente Così Comunque Prima di Ammazzarmi Prima di ammazzarmi Prova a vedere se si può raggiungere il confine della Cina Cioè non entrare Però voglio vedere se si vede qualcosa Prova a vedere Prova a vedere Cominciamo a andare Ti do un consiglio Sto scherzando Sto scherzando ora Oddio Quanto durerà? Quanto durerà? No ancora 3 o 4 Sì Perché mi Perché Senti Seppur poi la faremo automatica Io voglio far vedere un assedio con 4 eserciti A A A Kyoto Sì Capito Sì beh Vabbè Lo farei vedere Io crasherò Come una pecora Balsana Però Cashi Balsana Sì Spero Spero La prima volta che desidero di finire l'episodio in fretta Perché Devo andare in bagno Non puoi capire Allora non gli affrotteranno Hanno un esercito ancora Salve Professionalità Faccio una breve pausa Non la rego una battaglia terrestre giocata contro samurai senza andare prima a liberarmi A fra poco ragazzi Ok dopo aver liberato i miei istinti interni posso andare in ritirata Wow Che Continuo Movimentato Eh Faccio la battaglia matematica perché è persa Siano Mille e due contro mille e quattro Però Mille e due di 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 Quindi nulla Vabbè Quindi quell'esercito sarà da sconfiggere Che è abbastanza decente come esercito A scena non sud Ce ne devo mandare Ah sagami Scusami Sei un esercito di uno spruzzolo e mezzo Automatica No Si fai automatica Però tipo 684 contro 45 Credo che abbiano maggiori rinforzi Sconfitta Minchia fa schifo La IA Scusami Come cazzo ha fatto a perdere Vabbè C'ho un altro esercito di dietro Di vicino Che Sommando a conquistare Però Mi da un po' fastidio Comunque Dovemo fare sette minuti di video Non c'è problema No per dirti il tempo Così Ok Sei tranquillo che lungo la costa Non c'è Non c'è gente Non c'è nessuno Non ci sono più problemi Eh anche da Non ci sono più problemi E Va bene Non so cos'altro fare Devo soltanto aspettare di riportare l'esercito Sulla barca E poi andare via E poi è fatta Hashtag è già vinta E poi è fatta Poi Puoi dilaniare il paese La mia isola Puoi far esplodere Posso far esplodere tutto il mondo Però prima Sì Stavo dicendo Prima devo Devo riuscire ad andare In Cina Prima di andare in Cina Non mi interessa Se non è possibile Puoi commerciare con gli core Ma credo che sia la Corea Quella Nooo Sì Da me dice Eh sì Cioè credo che la sia Ricordo ancora un po' di geografia La ricordo Magari La facciamo da un po' Che scoglio Purtroppo Vabbè Nel frattempo Prendiamo Totomi Totomi A Mika Mika No Quindi aspettiamo Allora metto le tasse E ci fermiamo A Totomi Per questo turno Perfetto Mino Vado a Cina No Cina No Sud La lasciamo conquistare Ad altri Vado a A Omi Ok Ci vuole ancora un turno Per riparare qua Mino E mi metto a costruire Cosa Un mercato Così Perché posso Fra poco Omi sarà mia Oari è già mia Prendiamo Ci mettiamo a costruire Una taverna Non ho molto altro A fare Per ora Ah no Posso già spostare Questo esercito Giusto Posso già mandare Questo esercito Nella terra Quindi Ci metto un po' Troppi turni Per arrivare là Però Lo porterò Verso Kyoto Perché il prossimo obiettivo È Kyoto Perfetto Passo il turno Sì passo il turno Più niente da fare Sono Sì ormai la storia del Giappone Sta arrivando a una fine Sì Cioè Non a una fine A una conquista completa Che vuoi te? No Mi sta scoraggiando Wow Che paura Monaco Mi fai tanta paura Che tu mi scoraggi Lo sai Vabbè Mi preoccupa di più Questo esercito Quindi dovrò tornare indietro Mi sa Eh sì Mi sa che dovrò tornare indietro Ammino Affrontare un esercito Discreto Non troppo forte Ma discreto E puoi vedere un po' Come va Vai Fai il tuo turno Nel frattempo controllo Quanto sta durando l'episodio 4 minuti Ho fatto l'esercito sulla nave Basta Io penso che D'ora in poi Accumulerò soldi Perché tanto Non penso sia più utile Eh Fai eserciti Magari Eserciti Magari Vabbè Faccio un esercito Però Poi mi diminuiscono Un casino I soldi Non lo so Da Recluto qualcosa Così Vediamo un po' Vediamo un po' Così Cavallere con katana Cavallere leggera Tutto Ninja Bombardieri Non penso si dica Bombardieri Magari bombarole più Stai Stai reclutando Bombardieri Com'è possibile Sta cosa In quale epoca Siamo Sì esatto Quindi Com'è possibile Stai Contando Di bombardieri Come Il gioco Che fa Arceri Con la Cosa Migliorata Oh Qua c'ho i monaci Guerrieri Wow Non so se sono utili Va bene Uno Due Tre E quattro Quattro provincia Ancora mancano Prossimo episodio Succederà Che saranno mie E poi Basta Non penso di reclutare Nient'altro Perché non Non posso fare Nient'altro Va bene Ok E' demoralizzato Ok Mi hanno demoralizzato Un mona Comenta di livello Sabotaggio militare Chi se ne frega Tentativo di sabotaggio Incursioni Monopolio Anche di Tutte le province Con ferro Bene Monopolio del ferro Pure Vai Vuoi dare il ferro? Ce l'ho Ne ho tanto Se vuoi Se fai del ferro No grazie Guarda L'ultima cosa Che mi serve È il ferro No ma Teoricamente Ti levassi I rifornimenti Che cosa perderesti Devo scoprirlo Col commercio 3 euro No tu perderesti Vabbè adesso Non ricevi nulla Però perderesti Cavalli da guerra Seta grezza Il censo E artigianato No Perderesti Cavalli da guerra Ferro Artigianato No perdi tu Cioè allora Che cos'hai tu da me Vai a vedere Cosa esporti Cosa importi Allora Finanze Nient'altro Importo Cavalli Così Ah però La cosa è bloccata Ah è Per adesso è bloccata Sì per adesso è bloccata Perro Ah spero Va beh Automatico Non vuoi Puoi chiacchierare Non ti preoccupare Intanto Normale amministrazione Pietra e legno Qualsiasi cosa Proprio E poi io Eh però Anch'io esporto Sì però io Ce le ho già Ce le ho tutti Quindi credo Che in teoria Però non ho Il cotone Tu ce l'hai il cotone Credo di sì Credo di avere tutto Credo Però Non me lo importa No no Mi sa che non ce l'ho il cotone Ah no mi manca solo il cotone A me Mi sa che il cotone lo puoi prendere soltanto Tramite importazioni e esportazioni Corea Eh già Maledetti coreani Non solo esportate Starcraft Ma esportate anche cotone Vabbè Il cotone non mi è troppo importante Il prossimo turno Sì ma così Anche se a me non serve Però così Per spingere personale Mi manca soltanto una provincia E poi ho conquistato tutto Degli ojo Perfetto Purtroppo per questo episodio No due province in realtà Però per questo episodio Purtroppo dobbiamo chiudere qua Lo sai Vabbè Quindi Qua No non è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Anche da Ryukodan Credo sia tutto Ma non ne sono sicuro Sì beh Per stavolta è tutto Però solo per questa volta Ok solo per stavolta Ciao a tutti ragazzi A un prossimo video Shogun 2 sta finendo L'inverno sta arrivando Così Cheat Va bene Sei my name Ok Sì Ok Ciao a tutti ragazzi A un prossimo video Ciao Ciao